Benvenuti al video. Questa è una presentazione del prodotto fotocamere digitali compatte ANX 7K nero obiettivo. La ANX 7K di Sony una compatta digitale ad ottica intercambiabile con la qualità stupefacente di una reflex. Venduta con un obiettivo da 18-55 mm, questo apparecchio rileva il massimo dei dettagli grazie alla sua gamma di focali da 27-82, 5 mm. Il suo sensore CEMEOS da 24, 3 megapixel effettivi registra delle immagini incredibilmente precise. La sua altissima sensibilità, fino a 1600 ISO, permette di realizzare delle foto sia di giorno che di notte. Questo video partecipa al programma Affiliazione Amazon EU, dalla pubblicità e link all'Amazoniti. Per maggiori dettagli e ottenere un grande su Amazoniti, clicca sul link nella descrizione sottostante. Grazie per la visione. Grazie per la visione.